Una batosta, non c'è altro termine per definire la sconfitta incassata dal Cerignola al Ceravolo di Catanzaro. Un 4-0 pesante e meritato, il passivo al momento più largo della stagione e dell'intera gestione grieco. I gialloblu infatti non perdevano con 4 più gol di scarto dal 2013. Era un derby di eccellenza contro il Manfredonia, terminato 9-0 per i Sipontini. L'audace però scese in campo con la Juniores. Per attendere una reale sconfitta di così larga misura sarebbe necessario andare indietro di decenni. Sul campo della schiaccia sassica Tanzaro la sconfitta non è certo un imprevisto. Il tecnico Michele Pazienza ha comunque sottolineato la propria insoddisfazione. Ci sta di poter uscire da questo stadio con una sconfitta, probabilmente non nella misura in cui è arrivata e di questo me ne assumo io la responsabilità. Della trasferta in Calabria c'è ben poco da salvare, importante, è però evidenziare l'intenzione del Cegnola di giocarsi la gara a viso aperto, come mostrato dalle scelte iniziali. Per quanto riguarda Aschic e D'Ausilio la partita era stata preparata proprio in quel modo per attaccare e tenere in apprezzazione gli esterni loro che sono un po' quelle che è la loro forza. Mettendo due giocatori di gamba l'idea era quella di frenarli, di impensierirli, di farli correre anche qualche volta all'indietro perché se li avessimo lasciati correre esclusivamente in avanti ci avrebbero comunque schiacciati per tutta la gara nella nostra metà campo. Adesso sarà importante saper ripartire, dimenticando questo pomeriggio come se fosse stato un semplice incidente di percorso, lunedì sera al Monterisi arriverà un monopoli in fiducia, per gli ofantini subito l'occasione di riscattarsi e dare un ulteriore segnale alla zona playoff.